se vi sta dentro lì con stasso lì vediamo la staglia perché prima non c'è la staglia dice che c'è a Riettina che c'è su parca loca faceva quasi caldo poi c'è solo a Riettina guarda dove è la staglia a Riettina che c'è solo a Riettina che c'è solo bravo 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 dai Luigi facci vedere bravo 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 ti fermi qua poi hai preso tutti e due i sassi col dietro sia sotto che qua e infatti qua l'ho tacciurato perché hai sbagliato sotto hai preso il sasso e sbagli l'impostazione della curva vai adesso che arriva a spanti vai come? come? perché ho? non voglio vedere tira non chiudere a metà e vai via 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 devi andare via già da sotto quando parti sotto là devi continuarla tutta non devi chiudere via 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 BABY BABY BABY